Musica Autoimpiego, interrogazione da PD e forze tali, il Ministero non risponde, nessuna novità sul rifinanziamento, gli annuzzi, azione continua fino ad esito positivo. Strage di Silla, ieri una nuova udienza, il 28 è prevista una fiaccolata, il 29 un triangolare in ricordo delle vittime. Sassano questa mattina in titolazione dell'aula con delle conferenze di Palazzo Piccini a Aldo Moro. Sala Consilina, 37esima tappa del Giro d'Italia a piedi di Beglier. Sassano domani in trasferta, la società risponde a Caputo e Letteriello. Buongiorno, ben trovati a questa nuova edizione con l'informazione di Uno News. In apertura torniamo ancora sull'autoimpiego e sull'autoimprenditorialità. Ancora si attendono risposte da parte del Ministero per un eventuale rifinanziamento. Intanto si moltiplicano e si susseguono le interrogazioni proprio al Mise in merito ai fondi, con numerosi parlamentari che continuano a richiedere una risposta in merito proprio al rifinanziamento della misura importante per lo sviluppo soprattutto delle aree svantaggiate. Dallo scorso mese di marzo con Bergamini e la Carfagna di Forza Italia e poi gli annunci del Partito Democratico sono partite poi anche altre richieste e si sono aggiunti in questo ultimo mese anche altri parlamentari a richiedere il rifinanziamento. Vediamo. Interrogato il Ministero non rispose. Riportare la frase così come coniata sarebbe forse troppo ma renderebbe sicuramente bene l'idea. Una serie infinita di interrogazioni parlamentari da destra a sinistra sono arrivate al Ministero dello Sviluppo Economico, tutte con la richiesta di conoscere le motivazioni che hanno spinto il Ministero a lasciare senza fondi una misura importante per lo sviluppo del Paese come l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità. I fondi destinati alla misura venivano erogati dal Ministero attraverso Invitalia a favore di giovani e donne disoccupati che decidessero di dare inizio ad una propria attività con risultati davvero importanti dal punto di vista dello sviluppo economico. Le imprese che sono nate grazie alla misura dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità sono tantissime e tutte attive. Le aziende poi oltre a dare impiego ai titolari che risultavano disoccupati hanno permesso anche ad altre persone di essere impiegate all'interno delle stesse. A ciò si aggiunge che per la nascita delle imprese e per la realizzazione dei lavori strutturali è stato possibile creare indotto economico anche per imprese esistenti e che in questo periodo di crisi economica stanno soffrendo per la mancanza di richieste di lavoro e interventi. Insomma una misura che ha permesso di creare un nuovo lavoro per tutti e per tanti. In un momento poi in cui si parla di iniziative utili al rilancio del Sud non si capisce come mai il Governo continua a raccogliere proposte quando sarebbe per il momento sufficiente di finanziare il progetto dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità che ha fatto già registrare ottimi ed efficaci risultati, tanto da ottenere il plauso anche da parte dell'Europa proprio per l'efficacia dimostrata nel ridurre il tasso di disoccupazione e per la creazione di nuova economia. Il Governo e il Ministero dello Sviluppo Economico in particolare sembrano però sordi o quantomeno poco interessati alla questione nonostante da più parti in Parlamento giungono sollecitazioni o quantomeno risposte chiare su cosa si intenda fare. Interrogazioni presentate anche ben prima della comunicazione sul sito di Invitalia dello stop alle richieste in conseguenza dello stop ai finanziamenti da parte del Ministero. Il 20 marzo 2015 l'Onorevole Deborah Bergamini e l'Onorevole Mara Carfagna di Forza Italia presentano un'interrogazione a risposta scritta per conoscere quali urgenti misure intendessi adottare per rifinanziare la misura vista l'importanza di tali fondi per lo sviluppo delle aree economicamente svantaggiate. Interrogazione rimasta però senza risposta. Ci riprova l'Onorevole Tino Iannuzzi del PD il primo aprile chiedendo la risposta al Presidente del Consiglio dei Ministri che probabilmente l'avrà ritenuto un pesce d'aprile dato il silenzio. L'interrogazione affirma oltre che degli annuzzi anche di altri deputati chiedeva una risposta in commissione che era attesa per questo mese di settembre ma che poi è saltata con l'annuncio di una risposta scritta. Tornano alla carica lo scorso 18 settembre deputati di Forza Italia con una nuova interrogazione questa volta a firma dell'Onorevole Basilio Catanoso controfirmata da Mara Carfagna, Deborah Bergamini e Katia Polidori a cui si aggiungono anche le interrogazioni del senatore del PD Giorgio Pagliari e dell'Onorevole PD Giuseppe Berretta. Tutte interrogazioni che vanno ulteriormente a rafforzare la pressione di Iannuzzi per ottenere una risposta chiara sulla volontà o meno di puntare a reinvestire sulla misura dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità oggi più che mai necessaria per il rilancio del Sud Italia. La risposta al momento non sembra essere ancora arrivata. Il Ministero, come abbiamo visto, continua a tacere ma noi ne abbiamo parlato con l'Onorevole Tino Iannuzzi questa mattina a Sassano che ha sottolineato come continuerà comunque la sua azione di pressione sul Ministero dello Sviluppo Economico fino a quando non otterrà un esito positivo per il rifinanziamento dei fondi. È una misura assolutamente positiva che in questi anni ha funzionato benissimo producendo nuove piccole imprese che hanno retto la prova della competitività del mercato, che hanno prodotto nuova stabile e buona occupazione, che ha incentivato anche il mercato delle libere professioni perché tanti commercialisti, consulenti del lavoro, fiscalisti si sono occupati delle diverse procedure per il conseguimento di questi finanziamenti. Io sto insistendo, in settimana ho riparlato con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, nella prossima settimana nel dialogo con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il sottosegretario Vigliari dovremmo anche avere la risposta alla mia interrogazione ma in ogni caso stiamo premendo affinché con una delibera del Cipe nelle prossime settimane o nell'ambito della legge di stabilità sia assicurato il rifinanziamento di queste misure perché autoimpiego e microimprenditorialità giovanili hanno significato tanta buona nuova occupazione l'economia da parte di giovani disoccupati o la ricerca di prima occupazione e di donne e le misure che funzionano bene non si cancellano ma si mantengono e si sviluppano. Io continuerò la battaglia sin quando non avremo la soluzione definitiva e naturalmente positiva. Tra l'altra cosa devo dire che questa è una misura molto attesa e molto sollecitata dagli imprenditori, dagli operatori economici e dagli amministratori locali del Vallo di Diano che giustamente continuano a stimolarmi a fare pressing ma devo dire che è una misura molto attesa anche in Sicilia, è una misura molto attesa anche in Calabria, è una misura molto attesa anche in Puglia, cioè una di quelle misure che rispetto alla prova più inesorabile ma anche vera che c'è che è quella dei fatti ha dimostrato di riuscire a produrre esperienze positive e da allora io penso che il rifinanziamento di questa misura come tutte le altre iniziative che si stanno varando, è stato pubblicato e va in funzione anche il rifinanziamento per i contratti di sviluppo, tutti i finanziamenti per le nuove imprese, per l'innovazione tecnologica, per le start up sono tutte opportunità e strumenti rispetto ai quali il mondo dei giovani, degli operatori, degli amministratori locali del Vallo di Diano deve guardare con fiducia. E cambiamo argomento ad un anno dalla tragedia di Silla di Sassano, ieri una nuova udienza presso il Tribunale di Lago Negro del processo a carico di Gianni Paciello, accusato di omicidio plurimo colposo a seguito dell'incidente verificatosi il 28 settembre 2014 a Silla di Sassano che portò alla morte di quattro ragazzi tra cui anche il fratello. E per ricordare le vittime, le quattro giovani vittime di Sassano sono previste le cerimonie funebri partendo dal lunedì 28 settembre alle ore 15 e 30 a Varco Notalercole di Sassano presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria dove i familiari ricorderanno i giovani Nicola e Giovanni Femminella. Sempre lunedì ma alle ore 19 e presso la chiesa della Madonna di Pompei di Silla di Sassano sarà ricordato invece Luigi Paciello, anche lui morto nella tragedia. Martedì 29 settembre poi alle ore 11 sempre presso la chiesa della Madonna di Pompei di Silla di Sassano familiari e amici ricorderanno Daniele Paciello. In questi giorni tristi per l'intera comunità del Vallo di Diano sono state poi organizzate anche manifestazioni correlate proprio in ricordo delle vittime della strage del 28 settembre 2014. Vediamo. Il 28 settembre non sarà più una data come le altre a Sassano. Il 28 settembre 2014 resterà sempre impresso nella mente dei cittadini ma ancora di più nel ricordo dei genitori di Giovanni, Nicola, Luigi e Daniele. I quattro ragazzi che furono travolti davanti al bar a Silla di Sassano dall'auto guidata da Gianni Paciello che nella circostanza uccise anche il fratello. Ieri presso la tribunale di Lago Negro si è tenuta una nuova udienza alla quale non ha partecipato l'imputato su cui pende l'accusa di omicidio colposo. Nuovi test ascoltato dal giudice tra cui i medici della polizia scientifica di Salerno e il maresciallo della stazione dei carabinieri di Sassano Francesco Nasti. Nel corso dell'udienza è stata scartata l'ipotesi della difesa che sosteneva che nei pressi della rotonda vi fosse una macchia d'olio che avrebbe così contribuito all'incidente. In realtà secondo i rilievi effettuati non era altro che una macchia d'acqua lasciata dai vigili del fuoco al momento dell'intervento sul posto. La prossima udienza si terrà il prossimo 16 ottobre. Intanto a Sassano è tutto pronto per la giornata in memoria delle quattro vittime. Il giorno 28 settembre infatti alle ore 20 e 30 presso la chiesa Cuore Immacolato di Maria a Varcono Tarecole si terrà una santa messa in suffragio a cui seguirà una fiaccolata che porterà tutti davanti al bar a Silla di Sassano dove un anno fa si è consumata quella che ormai è da tutti definita la strage di Silla. La commemorazione e il ricordo dei quattro giovani inoltre proseguirà anche il 29 settembre quando al campo sportivo San Giovanni alle 20 si terrà un triangolare di calcio amichevole al quale parteciperanno gli amici di Giovanni, Nicola, Luigi e Daniele la cui esistenza è stata stroncata in un maledetto pomeriggio di settembre portando via sogni e aspirazioni che la vita avrebbe dovuto regalare l'oro. Cambiamo argomento, un'asse Atena Lucana a Roscigno è stata avviata grazie al progetto di valorizzazione turistica presentato ieri sera nell'aula consigliare del comune di Atena Lucana. Il progetto si chiama Experience Italy e vuole puntare sull'eccellenza del territorio. E' stato presentato ieri pomeriggio ad Atena Lucana il progetto di valorizzazione turistica e occupazionale del territorio. Un progetto che consente di mettere a sistema tutte le ricchezze storiche, artistiche, culturali, enogastronomiche, artigianali e non solo che il territorio può offrire al turista. Un progetto realizzato dal comune di Atena Lucana con il supporto della società 4City SRL denominato Experience Italy che crea anche un asse turistico tra Atena Lucana e Roscigno. Un progetto importante come ha sottolineato anche il sindaco di Atena Lucana Pasquale Iuzzolino. Insieme agli imprenditori del posto di Atena non solo ma del Vallo di Diano abbiamo pensato di creare una piattaforma di interscambio per incrementare le attività turistiche nel Vallo di Diano e noi abbiamo pensato che non vogliamo più subire il turismo, c'è quello che capita che ben venga, insomma è giusto che ci sia, ma vogliamo noi fare turismo, proporre agli altri paesi e soprattutto al nord Italia, dei pacchetti adatti alla peculiarità del nostro territorio, valorizzando naturalmente l'ambiente, i percorsi che ne abbiamo fatto di trekking, le arrambicate sportive e soprattutto la gastronomia e l'ospitalità del territorio. Questo non in contrasto con l'esistente ma in collaborazione con loro perché come dicevo prima noi vogliamo creare una piattaforma, una rete dove ognuno di noi interagisce con l'altro per una programmazione, per offrire dei pacchetti efficaci a chi viene sul nostro territorio. Il turismo sta cambiando, si affermano nuove tendenze, l'esperienza è al centro delle ricerche del turismo moderno, quindi noi andiamo cercando in Italia tutte le esperienze da proporre turisti, qui in Basilicata, tra Campania Basilicata e la Tannarucana abbiamo trovato un posto dove possiamo proporre cose interessanti, per cui siamo qui ad approfondire questo potenziale turistico. Per valorizzare i centri storici, quindi per capire come i turisti possano vivere le bellezze e le tradizioni locali ma anche per valorizzare tutte le ricchezze che il territorio ha da offrire, l'enogastronomia, l'artigianato piuttosto che le attività sportive o esperienze che i singoli cittadini vogliono proporre ai turisti. No, è un progetto per legare ai territori che sembrano lontani ma sono poi effettivamente vicini perché fare sistema significa anche accorciare le distanze. Con Pasquale Uzzolino, il sindaco di Atena stiamo portando avanti questo progetto con gli amici di Roma che sono professionisti in questo, nella ospitalità diffusa e riprendere anche l'abbandono di case e quindi poter fare sistema con un turismo. Quindi stiamo creando questo sistema dove ovvio che Atena, un centro molto più grande di Roscigno, potrebbe dare una proposta alloggiativa e noi diventare quel paese da visitare ogni weekend dai turisti che arriveranno qui. È ovvio che questo viene fatto anche in prospettiva del discorso di Matera che era il 2019 e quindi si sta cercando di creare e fare sistema. Atena la porta del parco, Roscigno all'interno del parco come meta da visitare. Torniamo a Sassano dove questa mattina si è tenuta la cerimonia di intitolazione della sala delle conferenze di Palazzo Piccini a Aldomoro. La cerimonia è stata arricchita anche da un convegno dedicato proprio alla figura e alle vicende che hanno caratterizzato la vita e la morte del politico italiano, segretario della democrazia cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse. Questa mattina la cerimonia di intitolazione della sala delle conferenze di Palazzo Piccini ad Aldomoro, il cinque volte presidente del Consiglio che il 9 maggio del 1978 fu ucciso dalle Brigate Rosse. L'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino, lo ha voluto ricordare e rendere immortale intitolando a lui la sala delle conferenze di Palazzo Piccini, riaperto al pubblico dopo la ristrutturazione nel mese di dicembre dello scorso anno. Oltre alla riqualificazione di alcuni dei principali luoghi storici e culturali del borgo antico di Sassano, si cerca così anche di trasferire ai giovanissimi lo stimolo verso la conoscenza di personaggi che hanno comunque caratterizzato la storia italiana, influenzando inevitabilmente anche la storia del Vallo di Diano. Alla presenza di diversi esponenti politici del territorio e non, oltre alla cerimonia di intitolazione, si è tenuto anche un convegno nel corso del quale si è ampiamente parlato di Aldo Moro, persona e politico. Dopo i saluti del sindaco Tommaso Pellegrino, del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, del coordinatore territoriale per il Partito Democratico Mimmo Cartolano, sono intervenuti sul tema i deputati Tino Iannuzzi e Sebrina Capozzolo. Particolarmente atteso è stato il momento della relazione presentata dal vicepresidente del gruppo PD alla Camera, l'On. Gero Grassi, che da profondo conoscitore e massimo esperto della vita e delle vicende che hanno coinvolto Aldo Moro, ha presentato la relazione sul tema chi e perché ha ucciso Aldo Moro. Alla cerimonia erano presenti anche il consigliere provinciale Paolo Imparato e il presidente della comunità montana Vallo di Diano Raffaele Accetta. E ascoltiamo ora le interviste realizzate questa mattina da Pietro Cusati al sindaco di Sassano Tommaso Pellegrino, al segretario del PD Nicola Landolfi e all'On. Gero Grassi, presenti questa mattina in occasione della cerimonia di intitolazione ad Aldo Moro della sala conferenza di Palazzo Piccini. Una bella giornata, importante, significativa. Aldo Moro un grande statista, un grande accademico, un grande giurista, ma soprattutto un uomo delle istituzioni di profilo elevatissime. Noi siamo contenti come comunità oggi di arricchirci perché intitolare una sala della cultura, una sala dell'incontro, una sala dove si può discutere. Ad Aldo Moro io penso sia un arricchimento per il nostro paese. E oggi abbiamo il nostro ordinario anche onore di avere qui a Sassano uno dei più grandi esperti del caso Moro in Italia, che è l'On. Gero Grassi, il quale ci ha regalato questa sua presenza, ma ci regala questa sua relazione ricca di contenuti sul chi e per chi ha ucciso Aldo Moro. Dicendo anche una serie di verità, ma aree anche scomode, facendo luce su un caso che ancora oggi merita e necessita di ulteriori approfondimenti. Non a caso oggi c'è una commissione parlamentare di inchiesta proprio sul caso Moro. Quindi veramente una giornata di cultura qui a Sassano e stiamo contenti e orgogliosi di avere anche tanti esponenti della cultura del Vallo di Diano qui presenti. Sono presenti l'On. Capozzolo, l'On. Iannuzzi, sono presenti i vertici del Partito Democratico perché voglio ricordare Aldo Moro un po' è stato il precursore di quello che oggi è il PD. Beh, veramente una giornata di grande significato e di notevole spessore. Non c'è dubbio che Moro poteva essere salvato. La commissione d'indagine sta studiando proprio questo. Chi l'ha ucciso Moro? L'hanno ucciso tutti quelli che l'hanno abbandonato. Il governo, il Parlamento, la comunità, la magistratura, le forze dell'ordine, i paesi esteri. Perché lo hanno fatto? Perché Moro puntava ad uno Stato nel quale ci fosse alternanza democratica tra partiti diversi. Perché Moro puntava ad una Europa non subordinata né agli USA né all'Unione Sovietica. Perché Moro proponeva la soluzione di un dramma che a distanza di 50 anni è tutto in campo. Cioè la soluzione del problema palestinese e israeliano. Per tutti questi motivi Moro è stato ucciso. Da chi? Materialmente è difficile dirlo, nonostante le Brigate Rosse. Ma le Brigate Rosse sono state aiutate da comportamenti attivi o omissivi da parte di organi dello Stato. Sì, un bel gesto, un ricordo dovuto, però non per questo meno importante da parte del Sindaco Pellegrino e di tutta la comunità sassanese a quello che possiamo ritenere l'uomo politico forse più importante che l'Italia repubblicana abbia conosciuto. Un grande giurista, un grande uomo di Stato, un grande uomo di partito. Io credo anche un padre nobile del nostro Partito Democratico. Nuovo appuntamento per domani mattina con il mercato itinerante a Teggiano. Come da calendario, domani 27 settembre, ultima domenica del mese, il mercato settimanale si terrà in località Pantano. L'iniziativa al momento in via sperimentale vuole puntare a creare economia su tutto il territorio tegianese e nel contempo dare nuovo slancio anche all'economia degli ambulanti, consentendo anche a chi per difficoltà di collegamento e per carenza di mezzi non riesce a raggiungere tutte le domeniche il centro storico di Teggiano. Domani mattina quindi per chi volesse raggiungere il mercato settimanale di Teggiano dovrà arrecarsi in località Pantano. Andiamo avanti, ci spostiamo a Sant'Arsenio. Secondo appuntamento, ieri presso della scuola di formazione per docenti, famiglie e studenti, ieri presso l'istituto Sacco di Sant'Arsenio, si è parlato di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento con il psicologo Antonio Cancro. L'incontro ha visto una folta partecipazione per un tema di grande importanza. Ai microfoni di Pietro Cusati ascoltiamo le parole dello psicologo Antonio Cancro, del dirigente scolastico Cono Alberto Rossi e dei coordinatori del progetto Angelo Sica e Gennaro Gonnelli. Abbiamo parlato nello specifico dei DSA, dei disturbi specifici dell'apprendimento, ma più che altro è stata, come dire, in qualche modo una giustificazione per poter parlare di bambini, parlare di scuola, parlare di processi educativi, parlare di quello che deve essere uno degli aspetti tanto predicato, ma mai pienamente concretizzato, affermare la centralità dei bambini. I bambini sono al centro e devono essere al centro di quella che è l'attenzione di noi adulti, perché se no diversamente tante volte le nostre incapacità, le nostre incongruenze, ricadono pesantemente sui bambini. Allora voleva essere massimamente un metterci in discussione, noi adulti, per sapere meglio come agire, come fare, per poter facilitare il percorso evolutivo dei bambini. A me fa molto piacere che sia qui, presso l'Istituto Sacco, il dottor Cancro, anche perché lo conosco da vecchia data, e conosco la sua preparazione, un uomo concreto e soprattutto di grande semplicità, che a mio avviso è una grande virtù. Io in questi incontri mi fa piacere di averli avuti qui all'Istituto Sacco, perché sono incontri con il psicologo Cancro, l'ultimo, il penultimo è stato con lo psicoterapeuta Botta, poi qualche altro è stato con qualche altro pedagogista e così via, insomma. Mi fa piacere perché gli insegnanti devono potersi formare attraverso appunto pedagogisti, psicologi e senz'altro persone che conoscono molto bene l'evoluzione dell'età evolutiva, l'evoluzione riferita alla pedagogia dell'età evolutiva. Sì, noi abbiamo sempre convidato sulla figura dell'insegnante informato, dell'insegnante sensibile, dell'insegnante che vuol dare più di quello che normalmente è riuscito ad accogliere durante il percorso degli studi. Quindi la presenza stasera è un argomento molto importante e la testimonianza è che il gruppo di ricerca, Città Educativa Validiano, sta guardando con un obiettivo giusto. Siamo contenti soprattutto per la partecipazione, perché effettivamente stasera alla lezione di Cancro c'è tanta tanta gente, ma siamo anche contenti soprattutto perché c'è Antonio Cancro questa sera. Antonio Cancro è stato un collaboratore, mie, della scuola di Montesano negli anni 80 e negli anni 90. Abbiamo realizzato con lui quello che si può realizzare in campo di disabilità e di handicap. Cioè abbiamo cercato di realizzare quello che era il nostro principio. Il principio era un bambino e un bambino, l'indicap è solo un problema in più. Quindi abbiamo creato una società, una comunità educante fatta di genitori, di specialisti, di insegnanti, di strutture, di enti, in modo da realizzare quello che noi volevamo, cioè creare in donna, questi bambini disabili, una comunità che potesse dare a loro certamente un avvenire. Bentornati alla seconda parte del nostro Tg. La tratta ferrata sicignano Lago Negro non rientra nelle liste delle ferrovie dismesse da convertire in percorsi green. Lo annuncia il Comitato per la riattivazione della tratta che spiega anche di aver chiesto un incontro al Presidente della Regione Campania e Basilicata per tornare a parlare della ferrovia del Vallo di Diano. Sempre al centro del dibattito politico la tratta ferroviaria sicignano Lago Negro. Nei giorni scorsi l'onorevole Realacci ha proposto di trasformare le ferrovie dismesse in percorsi green. Un'ipotesi che riguarda parecchie tratte ma in questa lista non è inclusa la tratta sicignano Lago Negro che, come riporta in un noto ufficiale il Comitato per la riattivazione, prima di tutto ufficialmente è sospesa all'esercizio e non dispensa ma soprattutto e anche un po' grazie al lavoro di questo comitato ha davanti a sé delle prospettive essendo vicina all'alta velocità. Su questo tema è intervenuto anche l'onorevole Tino Di Annuzzi che ha sottolineato come il recupero e la riattivazione delle linee che possono e debbono svolgere una funzione utile e preziosa per realizzare un sistema infrastrutturale di mobilità e di collegamenti ferroviari più adeguati. La Sicilia Nello Lago Negro ha dichiarato gli annuzzi è una tratta da recuperare e riattivare quale linea ferroviaria di grande utilità per il territorio e le comunità del Vallo di Diano e dell'intera provincia salernitana. Una dichiarazione importante che però deve essere ancora una volta sottolinea il comitato seguita dai fatti. Vista la predisposizione di De Luca a fare una politica pro trasporto su ferro e la conclamata disponibilità della Basilicata nell'aprile del discorso per il ripristino della Lago Negro sicignano è tempo di discutere con gli attori principali di questa faccenda. Lo richiede la necessità di sviluppo delle aree interne la politica europea che sostiene soltanto le opere ecologiche su ferro e soprattutto una comunità intera. Il comitato conclude la nota comunica di aver già spedito regolare richiesta per essere ricevuti da Pittella e De Luca in un incontro con entrambi per parlare della ferrovia del Vallo. Questa sera presso la pasticceria Peccati di Gola e dintorni a Silla di Sassano musica latino-americana e specialità tipiche venezuelane per la serata latina. Serata latina a Silla di Sassano questa sera con Peccati di Gola e dintorni che hanno organizzato una serata di festa dedicata agli appassionati di musica latina e soprattutto a quanti sono legati al Venezuela. Nel piazzale antistante la pasticceria Peccati di Gola e dintorni la famiglia Tropiano ha già provveduto ad allestire il tutto per regalare ai loro ospiti momenti di musica e divertimento condito con l'allegria e i sapori tipici venezuelani. Il Vallo di Diano è un'area che ha visto tantissime persone emigrare verso i paesi dell'America Latina. Già dal periodo post-unitario furono tante le persone partite alla volta di Venezuela, Uruguay e Argentina alla ricerca di lavoro e di un futuro. Un flusso migratorio che riprese con abbondanza nel periodo post-bellico rafforzando il legame della comunità valdianese con le terre del Sud America e viceversa. Al fine anche di mettere in risalto una caratteristica della nostra storia e della nostra cultura che ci vede in relazione con i paesi dell'America Latina Cono e Franco Tropiano insieme al cugino Vito Cimino hanno deciso di puntare sulla musica e sui sapori latino-americani per far divertire giovani e nonno del Vallo di Diano. A partire dalle ore 21 nel piazzale antistante Peccati di Gole e dintorni a Stilla di Sassano tanta musica e divertimento con DJ Black e Cono DJ il re del mambo e con l'animazione di Linda Cris e Ora Loca il tutto arricchito dalla possibilità di degustare i piatti tipici della tradizione venezuelana nella lunga serata latina. Una grande accoglienza ieri per l'82enne atleta Alessandro Bellier che ieri è giunto a Sala Consilina per la 37esima tappa del suo giro d'Italia a piedi sulla dorsale a Penninica. L'amministrazione di Sala Consilina ha voluto inoltre omaggiare l'atleta con una targa. Con due ore di anticipo rispetto al previsto Alessandro Bellier è arrivato a Sala Consilina ieri pomeriggio. Scoltato nell'ultimo tratto dagli assessori Lombardi e Ferrari l'82enne atleta ex alpino e paragatutista ha concluso la 37esima tappa del suo personale Giro d'Italia a piedi attraverso la dorsale a Penninica. Dopo aver sostrato a Sala Consilina questa mattina è ripartito alla volta di Trapani dove giungerà il prossimo 24 ottobre. Grande accoglienza per Bellier al quale abbiamo chiesto cosa l'ha spinto in questa avventura. Questa è l'ultima mia sfida delle altre tre parti prima e ho voluto proprio scegliere la dorsale a Penninica per visitare tutti questi cittadini piccoli ma talmente belle perché camminando sui monti è una cosa bellissima proprio è stata una cosa che non mi sarei mai immaginato io l'ho proprio detto con il signor sindaco che io sono stato accolto bene a Bologna a Lecco a Brescia a Vergine cioè anche città grosse grosse ma un'accoglienza così affettuosa così bella così sentita come sala la posso mettere nelle prime due noi lo abbiamo accolto con tanta gioia con tanto amore e tanto affetto lui lo ha riconosciuto è la cosa che maggiormente ci ha colpito e che lui si sia commosso quando ha detto delle parole di ringraziamento nei confronti della nostra cittadinanza e soprattutto ci ha annoverato tra le due cittadine che lo hanno accolto in maniera migliore rispetto alle altre raffrontandoci anche ad una realtà che è sicuramente notevolmente superiore rispetto a Sala Consilina che è Bologna non ha fatto una gradatoria di preferenza ma a noi non interessava questo ci ha accomunato nelle due città migliori per noi è un motivo di grandissima soddisfazione io credo che l'età del signor Belier dimostri che forse lo sport viene vissuto con più consapevolezza e passione proprio quando non si è in tenerissima età io ho avuto modo di conoscerlo telefonicamente in questi giorni ed è una persona squisita è una persona che sa dare tanto è una persona alla quale noi diciamo grazie per aver scelto Sala Consilina come tappa appena detto che porterà di certo un bel ricordo nel suo cuore della nostra città per l'accoglienza e per tutto e niente io non l'ho seguito perché io sono una sportiva credente ma non praticante però voglio dire una prossima volta mi sono ripromessa di accoglierlo a piedi questa è una grande sfida innanzitutto sportiva e bisogna sottolinearlo ma è una sfida anche per noi dell'amministrazione che abbiamo raccolto da un punto di vista di promozione e valorizzazione del nostro territorio perché attraverso la figura di Belier sappiamo di portare il nostro territorio sulla scena nazionale perché questa grande sfida è seguita ovviamente sia a livello nazionale che internazionale e sappiamo di pensiamo anzi di aver lasciato un segno nel ricordo diciamo di Belier che potrà ovviamente diffonderlo in tutta Italia e oltre e aver fatto un pezzo di strada insieme vi confido che è stato veramente importante da un punto di vista umano per aver raccolto la sfida di un uomo che sta appunto superando se stesso e cercando di cogliere il meglio dalla nostra Italia e passiamo ora al calcio il Sassano calcio sarà domani in campo per la terza gara di campionato in attesa della gara di domani il Sassano tramite il vice presidente Bifano risponde alle forti dichiarazioni rilasciate dal DS Caputo e da mister Letterielli dopo il divorzio di inizio settimana domani in campo il Sassano nel campionato di promozione gara esterna al Morra di Vallo della Lucania contro il Cannalonga una gara dove la squadra punta a far bene e tornare a casa con un risultato positivo intanto la società nella persona del vice presidente l'avvocato Cesare Bifano ha risposto alle dure dichiarazioni del direttore Sergio Caputo e di mister Tony Letteriello che hanno rassegnato le dimissioni in settimana inoltre fa il punto sul prossimo allenatore del Sassano e non esclude clamorose sorprese diciamo che le dichiarazioni del direttore e del mister non ci sono piaciute questo lo diciamo in anteprima fermo restante insomma che sono persone a cui io rinnovo la mia stima umana e professionale però il congedo poteva essere fatto in altro modo perché insomma ci si dice che non ci sono le condizioni per continuare ma sostanzialmente la squadra che ci troviamo adesso l'ha fatta il direttore quindi da qui fino a dicembre noi non potremo intervenire e andremo avanti con quello che ci ha portato il direttore ci si accusa di scarsa professionalità di dilettantismo insomma io sento parlare anche di fantacalcio franticamente queste parole non ci sono non ci sono piacute probabilmente insomma il direttore avrà sentito venire meno la fiducia del presidente però ognuno di noi nel lavoro che fa viene misurato per i risultati e in questo momento i risultati non sono non sono lusinghieri perché noi abbiamo fatto quattro partite non ne abbiamo vinto neanche una e abbiamo fatto zero gol poi loro dicono che sono abituati a fare calcio in maniera diversa io dico loro sapevano la realtà in cui si venivano a misurare e nessuno li ha mandati via sono loro che hanno scelto di andarsene sbattendo anche la porta e questa cosa sinceramente non ci è piaciuta io capisco che andando via il direttore insomma il mister ha ritenuto di dover andare via però si poteva andare via anche in altro modo insomma senza dire parole credo anche abbastanza pesanti non stiamo avendo incontri si stanno proponendo insomma alcuni allenatori perché comunque quella di Sassano è una piazza che ha tradizione e si stanno proponendo però al momento non c'è non c'è niente di concreto noi vogliamo scegliere con calma insomma il nome del nuovo trainer anche perché ne abbiamo già cambiati due quindi non è che possiamo cambiare allenatore ogni 15 giorni per cui il prossimo che arriverà va scelto con calma sempre che insomma le condizioni di Gianni non gli permettano di rimanere alla guida della squadra che personalmente insomma ritengo sia la soluzione ottimale perché conosce l'ambiente conosce i calciatori insomma ha un ottimo rapporto con i ragazzi per cui potrebbe anche essere una soluzione che da transeunta insomma diventi definitiva se così non fosse e le sue condizioni di salute non gli permettessero di allenare sceglieremo con calma il nuovo allenatore però per il momento di concreto non c'è niente e con il calcio termine il nostro TG io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro buon proseguimento di giornata grazie a tutti